Prima di cominciare ragazzi vorrei chiedervi un piccolo aiuto per chi ovviamente potesse offrirmelo, sto facendo una piccola raccolta fondi per poter comprare a Plague Tale Innocence per poterci fare ovviamente una serie sul canale perché da quel poco che ho visto e dai consigli di amici il gioco sembrerebbe essere veramente molto molto bello e quindi desidero davvero portarci una serie sul canale perché secondo me potrebbe uscirci qualcosa di veramente bellissimo per cui se doveste volere contribuire ragazzi trovate il link per farmi delle donazioni qua sotto in descrizione grazie a tutti in anticipo Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti da giocherina nel video random del sabato ho deciso ragazzi di ritornare su Overwatch perché ho visto che effettivamente il video della scorsa settimana vi è piaciuto Alcuni di voi hanno accolto bene questa cosa mi avete detto dai sei il giocherino perché non ci fai altri video benissimo la volta scorsa ragazzi avevo deciso di usare incredibile pallacriceto che effettivamente si chiama wrecking ball Personaggio con il quale mi ero trovata bene quando avevo ripreso insomma a giocare a Overwatch la scorsa settimana Però oggi non voglio ovviamente riutilizzare lo stesso personaggio direi ragazzi che magari in ogni video proverò ad usare un personaggio diverso Così per vedere insomma come se la giostra giocherina con i vari tipi di personaggi Quindi la volta scorsa ho usato un tank perché si tratta di un tank Quest'oggi ragazzi voglio farmi del male perché sapete benissimo che giocherina c'è proprio una mira de merda Cioè ma proprio tipo de merda che più de merda non si può e quindi voglio utilizzare Anzo Probabilmente lo sapete probabilmente no è un personaggio di attacco che però utilizza l'arco Quindi sarebbe a dire colpi di massima precisione e mira Quindi giocherino andiamo a farci del male cerchiamo una bella partitala Sperando che sempre qualcun altro non sceglie il personaggio che devo utilizzare io insomma Perché se no ogni volta devo cercare un'altra partita e un'altra partita e un'altra partita e un'altra partita Le abilità di questo personaggio sono appunto quelle di fare una tempesta di frecce Quindi carica praticamente 6 frecce successivamente però con danni ridotti Una freccia sonica che sarebbe a dire un'unica freccia che però ha un certo effetto Il doppio salto E quella abilità là esatto Cioè l'attacco speciale sarebbe tipo quell'attacco Sfera del drago Incredibola Che ammazza tutti quelli che ci vanno di mezzo Perfetto ho fatto giusto in tempo Poi seguire andò Abbiamo solo un tank un guaritore però vabbè Cioè facciamo il segno della croce ragazzi perché io vabbè ve lo dico eh Con questo sarò sicuramente un disastro assoluto Ci siamo ragazzi Siamo pronti e preparatevi al disastro più assoluto Ciao 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 a tutti perché vi viene addosso Come potete vedere ragazzi più si tiene premuto il tasto di lancio Più la freccia si carica quindi più danni infligge Io vi chiedo scusa in anticipo per lo schifo più totale Go Non ci posso credere Non ci posso credere Ah vabbè qualcun altro l'ha mezzo ucciso per me ovviamente perché cioè Io gli ho tirato solo una freccia Però dai una piccola kiss Ho una paura matta ragazzi con questi cecchini Ho la paura tipo più assoluta ad avanzare perché cioè Mo ci vuole Non è che uno c'ha la possibilità di sparare tipo a manetta E comunque provocare qualche danno Cioè se non lanci bene Qua non fai proprio una cippa di niente capite Ci siamo ci siamo Stiamo conquistando Oh Oh Dov'è Dov'è andata Merda Merda Eh merda come Madonna raga Minchia come lancio lì in merda Oh Un altro è andato Un altro è andato Attenzione Fermi tutti a che cosa sto lanciando Non so chi sto lanciando Eh Oh Un altro è morto È morto Dov'è il curatore Dov'è il curatore ragazzi Sto nella cacca più nera Ok qua c'è un medikit Aspettate Dobbiamo cercare di conquistare la zona Eh 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 Mori la concita è tua umana Ecco Lui Si è Oh Si è fatto prendere perché anche lui c'ha un anzo ragazzi Ecco Bene Dove caspita sta il curatore Vedete vabbè mi si è sposta troppo Questo mi pare ovvio Però Il curatore dove caspita sta Ce l'abbiamo ancora il curatore No Bene Bravi ragazzi eh Adesso si che stiamo nella merda Ah Tra l'altro Questo personaggio ha già la possibilità L'abilità di Arrampicarsi Tipo sui muri Cioè stile Camaleonte Geko Non so che cosa Ok forse Sarà per uscire da là Infatti Ecco qua Vabbè C'era No 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 Non ci siamo proprio così Non ci siamo proprio Non so perché ma ho la vaghissima Proprio vaghissima Sensazione Che questa partita La perderemo proprio Alla grandissima Ok C'ho il mio attacco speciale a disposizione Però non è detto che vada sempre a segno Perché poi il dragone insomma continua Là dove viene lanciato Ci vorrei provare Ok Uno è andato Uno è andato Forza ragazzi Ce la famo Ce la famo Coraggio Sì Oh Che sta succedendo qua Non so Non so dove sto lanciando C'è il torte lancio ragazzi Totalmente random Un altro è andato Oh Come godo Come godo Quando riesco a fare Che con questo ragazzi Così bello Maia Che caspita è successo Sono bloccata contro il muro ragazzi Non so se ci potete credere Ok ragazzi Io proverei a lanciare il mio attacco Tipo super sonico Non ha ammazzato Nessuno Quando i nemici lanciano Quell'attacco ragazzi Fanno una strage L'ho lanciato proprio in merda Poi c'ho questo pezzo di merda Dietro Ma come sono resa conto Insomma Che magra Figura De merda Proprio Mo' mi ritrovo qualcuno dietro Di sicuro Ecco Abbiamo vinto Miracolo Miracolo Quanto ci sono fa Mamma mia Sette eliminazioni Vabbè Non male Ho ricevuto pure un elogio Oh Ma grazie Ma facciamo un'altra Precisione ragazzi C'è 28% Non so se ci rendiamo conto di questa schipezza Ok 5 colpi di grazia Sarebbe a dire che ho fatto 5 kill effettive Non male Non male Per essere insomma una delle prime volte Raga Qualcuno Qualche pezzo di merda Si prenda un guaritore Vi prego Ecco Come l'ho detto Vabbè ragazzi Ma vi rendete conto Che la squadra è nella merda Cioè questa è la giornata della merda Cioè arriverà il giorno che sarò io il guaritore qua in mezzo Eh per carità Però non è oggi quel giorno Capite Io vi aspetto Qui dall'alto Morte dall'alto No Cercate di far fuori quello scudo ragazzi Ammazzate quell'uomo Per l'amore del cielo Sta succedendo un casino là sotto Io sono qua sopra Che mi nascondo Come un verme Oddio Eccolo là di nuovo Questo scudo Desta cippa Qualcuno lo ammazzi Eccolo là Questo lo ammazza ragazzi Proprio di brutto Ecco dove vado Dove mi nascondo Porca miseria Eh Eliminato No Cioè Non è stata la mia kill Ovviamente Come succede sempre Figuriamoci Continuo a vedere persone Che vengono Che vanno Che cavolo sta succedendo Ecco Muoio Ma che chi Che caspita Non ho capito Se stava laggando Oppure no ragazzi Probabile Ma mi verrei da dire Vuoi dare la colpa Al lag E mi sa che sta laggando Ragazzi Non capisco come sia possibile Perché la mia connessione È andata sempre Benissimo Oggi che Sto registrando Mi deve laggare Come una merda Cioè ripeto Oggi è la giornata Dedicata alla merda Non è possibile Non è possibile Non è possibile questo Ecco Uso la freccia Supersonica Oh L'ho aperta Non ho servito A un cazzo De niente Scusate Ma passate Ma è il termine Vabbè Oh Eccolo qua Eccolo là Eccolo là Quello è l'attacco Supersonico Delle palle Del drago Di cui vi parlavo Oh Vattene il diavolo Questa qua è terribile Ragazzi Perché è così veloce Sta figata Era mignotta Che questa Non è cosa Di cui mi devo occupare Io ho capito Non capisco Cosa stia succedendo È successo Il filimondo Non ci ho capito Niente Mori Oh raga Non sto colpendo Un'anima Ma manco Di colpire Veramente È assurdo Oh Era ora Che riuscissi Ad ammazzare qualcuno Ari Ah Meno male Eh la barriera Sta cerendo Qua tutto Sta cerendo Pure le mie palle Stanno cerendo Potevo lanciarmi Attacco supersonico Delle palle del drago Eeeh Ma vaffanculo Roma Ho dovuto ammazzare Porca miseria Prima di perdere Come le merda Ho dovuto pure ammazzare Questa partita È andata proprio Dovinate un po' Come è andata Le merda Sì sì Prima Sono fatta tanto la fighetta Eh Ho fatto 5 kill Eh Per essere la mia prima partita Eh Ok ragazzi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Pronti A fare di nuovo Di merda Oh Ma te fai pigliare Gli ho lanciato tipo Quattro frecce Almeno uno L'ho pigliato Appena volta Tipo No Eeeh È morto È morto Aiaiaiaiaiaiaiai Che sta succedendo Io mi prendo Il medico Allora Allora potete Allora potete Allora potete morire Tranquillamente Tutti quanti Grazie Ho paura Ho paura Ho paurissima Bastion ti prego Difendimi tu le chiappozze Siamo qua insieme Possiamo farcela Conquistarlo Possiamo farcela si scontiamo sto benedetto carico ragazzi attenzione attenzione lo potrai discordare di tua madre del tuo madre piano 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 parlamone no seriamente parlamone non ci adesso muoio adesso muoio perché questo qua mi lo fa fuori ragazzi aiuto serie di 7 uccisioni ingredibola forza aia madonna come è morto malissimo scommetto che non prenderà nessuno nella vita no ma te raffa devi morire devi morire devi morire devi morire devi morire devi morire oh merda pupazza oh ma che caspita minchia che strage gesù giuseppe pure maria me l'ho salvata forza il coraggio così ragazzi dai eh non fermiamoci oddio quello la è impossibile da chiappare ragazzi quello la è impossibile da chiappare sto morendo che mi sta succedendo sto andando a fuoco cos'è successo qualcuno mi aiuti per favore merda c'è il panzone c'è il panzone oddio minchia comunque ragazzi personaggi come questo dovrebbero stare c'è veramente nelle retrovie nelle zone sospese perché c'è ritrovarsi faccia a faccia con personaggi d'assalto tipo questo vedete è un suicidio ok una sdrandato e mori pure te che cavolo che fa questa raga aiuto siamo uccisi a vicenda è stato bellissimo bellissimo due vittori su tre mi sembra grande ok raga record uccisioni serie 7 7 colpi di grazia sono riuscita a fare meglio che nella prima partita direi che sono abbastanza soddisfatta abbastanza proviamo ragazzi a fare così vediamo allora per chi fosse interessato a questo tipo di video su overwatch potete consigliarmi voi quale personaggio utilizzare nel prossimo video mi raccomando aspetto i vostri commenti questo video termina qui grazie a tutti un bacione ciao vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni ciao